Il caldo e l'afa di queste ore si sono abbattute anche a Cremona, che registra un tasso di umidità oltre il 70% e temperature che sfiorano quasi 40 gradi. Pochi cittadini per le vie della città, difficile passeggiare con condizioni meteo così rigide. Qualcuno cerca sollievo come può, ventagli, fontanelle e la ricerca di zone ombreggiate. La SST di Cremona esorta la prudenza per evitare colpi di calore. I sintomi da tenere sotto controllo sono l'aumento della temperatura corporea, pelle secca e calda, tachicardia, volto arrossato o pallido, pupille dilattate. Le città che vivono il caldo, soprattutto le persone anziane e le persone fragili, quindi il cardiopatico, il bronchitico, l'insufficienza renale, il diabete anziano, quindi tutto ciò che espone la maggiore criticità del caldo in una popolazione già fragile di suo. Il caldo, soprattutto con umidità elevata, in questi giorni l'umidità non è ancora elevata, sembra più un caldo secco, però temo che con il proseguire della stagione estiva, se continuiamo con queste temperature, i disagi fisici cominceranno ad essere importanti. Dovremmo evitare il sole diretto, dovremmo evitare gli ambienti particolarmente caldi, dovremmo soprattutto bere acqua, non fredda, fresca ma non fredda. Dovremmo cercare di far aereare gli ambienti chiusi senza uso di condizionatore a temperature troppo basse, perché il contrasto tra l'ambiente caldo e il condizionatore a estrema raffreddamento acuto potrebbe creare anche di suo degli scompensi della malattia di raffreddamento. Mi raccomando soprattutto nelle persone anziane di evitare il cosiddetto colpo di calore, quando cioè la possibilità di scambiare con la sudorazione e poter abbassare le temperature in modo più lento e fisiologico diventa difficile.